Bollettino parrocchiale di San Bartolomeo Boves. Porta la data del 16 novembre del 1919. All'interno del bollettino ci sono le fotografie dei soldati italiani della prima guerra mondiale caduti per la patria. Sono delle frazioni di Boves, Rivoira, Sant'Anna, Castellar, Rosbela, Cerati, San Mauro. All'interno del bollettino. Questi sono due fratelli, altri fratelli. Qui vediamo un bersagliere. All'interno del bollettino. All'interno del bollettino. All'interno del bollettino. All'interno del bollettino. Qui ci sono altri fratelli. Un altro bersagliere di Castellar, sempre frazioni di Boves. All'interno del bollettino. Avete notato? Gli alpini fanno le fotografie col berretto in testa, mentre i fanti non ce l'hanno. all'interno del bollettino. all'interno del bollettino. All'interno del bollettino. All'interno del bollettino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.